Ciao, sono Serena, responsabile dell'area pulizia e la festa dell'oratorio. Ricoprire questo ruolo è sicuramente impegnativo, perché c'è da lavorare parecchio e c'è da coordinare il lavoro di tante persone, ma anche quest'anno la fatica è stata ampiamente ripagata dalla gioia di vedere tutte le persone coinvolte darsi da fare e collaborare insieme per la buona riuscita della festa e per l'oratorio e farlo con il sorriso, scherzando, divertendosi nonostante il caldo e nonostante la grande fatica, creando quindi un clima di condivisione e uno spirito di comunità che rendono questa festa speciale e il nostro oratorio davvero unico. Che dire, un grazie a tutti per il bellissimo tempo trascorso insieme, per la collaborazione e vi aspettiamo numerosi l'anno prossimo. Ciao, sono Simona e questa è stata la mia prima festa da responsabile del servizio ai tavoli ed è stata per me un'esperienza molto positiva. La preparazione, l'allestimento e soprattutto la gestione delle serate ha richiesto notevole impegno, impegno che però è stato ampiamente ricompensato dalla buona riuscita dell'evento, oltre che dall'appagamento per aver partecipato e aver contribuito alla creazione di un momento di aggregazione per la comunità. Il gruppo del servizio ai tavoli è storicamente un gruppo giovane perché è costituito principalmente dai ragazzi ed è a loro che va la mia gratitudine perché hanno saputo mettersi con piacere al servizio degli altri, collaborando alla realizzazione della festa. L'augurio è di poter ritrovare i prossimi anni i ragazzi e tutto il gruppo dei volontari con la stessa voglia di creare insieme qualcosa di utile e di bello per la nostra comunità. Un saluto a tutti, sono Enzo, come potete notare dalla maglietta bianca, sono il referente per l'area cucina e bar e per la festa dell'oratorio. Che dire, anche quest'anno è stato un bel momento comunitario, grazie alla presenza di tutti voi e ai volontari, c'è stata una bellissima settimana e un bel clima cordiale e sereno. È un po' di anni che partecipo all'organizzazione della festa e per questo ringrazio Don Davide e alla Commissione Oratorio per avermi dato la fiducia e l'opportunità di effettuare questa bellissima esperienza. Io ho il compito di organizzare la parte culinaria della festa, un compito abbastanza ardo, ma in questo mi hanno aiutato tantissimo i veterani della festa, della cucina e la memoria storica della cucina e in più i nuovi volontari che con la loro energia e la loro curiosità ci aiutano sempre di più a mettere delle innovazioni all'interno della cucina. Il nostro obiettivo principale è ridurre sempre i tempi di attesa e offrire un ottimo prodotto. Approfitto di questo video messaggio per ringraziare tutti i volontari e in particolare i volontari della cucina che quest'anno hanno avuto un clima abbastanza caldo in cucina e hanno lavorato ugualmente, hanno dato il meglio di sé. Vi aspettiamo il prossimo anno sempre numerosi, restiamo in attesa di consigli e suggerimenti da parte di tutti per migliorare sempre di più l'organizzazione della festa e per il nostro bello oratorio. Don Davide dice sempre che un luogo va vissuto, altrimenti diventa una sorta di contenitore di, come direbbe mia mamma, un albergo dove una persona va a fruire di un servizio e torna a casa senza aver lasciato niente di sé e senza aver preso niente da quel luogo, oltre ovviamente ad aver fruito del servizio. Penso che un evento o ancora un'occasione come la festa sia veramente un modo di coinvolgere tutte le persone che magari passano di sfuggita dall'oratorio, entrano nel bar per prendere le caramelle e escono e non riescono ad apprezzare fino in fondo tutta la complessità che è l'oratorio, che è questa realtà che è così radicata nel nostro paese e nella nostra comunità. Da un po' di tempo la Commissione Oratorio ha aggiunto alla festa l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone possibili e penso che questo si sia visto nel corso delle scorse edizioni. Ogni anno c'è sempre qualche persona nuova che viene a portare il suo contributo per la buona realizzazione della festa. Oltre a questo, come gruppo logistico e ormai facente parte dell'area comunicazione, ogni anno ci sforziamo di portare qualche novità, un po' di aria fresca all'interno della festa. Quest'anno la nostra idea è stata Photobox, il concorso fotografico diciamo un po' particolare perché è diverso dal solito. A sentire anche i pareri della gente all'uscita dallo stanzino dove avevamo organizzato questa sessione di posa, sembra sia stata una novità gradita. Molte persone erano praticamente entusiaste. Ovviamente bisogna ringraziare le persone che non sono come me e non si sono messe di fronte a questa telecamera. Il loro lavoro sempre dietro alle quinte non è altro che da lodare. Tornando al concetto dell'inizio di questo messaggio penso che abbiamo raggiunto e abbiamo anche superato l'obiettivo che ci eravamo preposti, cioè di aumentare la partecipazione ma ancora più della partecipazione la coscienza all'interno del paese della realtà che è l'oratorio, in particolare tramite questa festa. Speriamo che molte delle persone che sono passate dalla festa ritornino all'oratorio non solo come per venire a mangiare un pane salamina o un piatto di tagliatelle ma anche come volontari, anche solo per esprimere la loro opinione su delle cose, come si potrebbero migliorare, come si potrebbe perfezionare o come si potrebbero fare nuove cose. Il nostro invito è comunque quello di seguire i canali dell'oratorio per rimanere sempre aggiornati su quello che viene fatto in oratorio. Speriamo di rivederci anche prima nella prossima festa. Ciao a tutti, io sono a raccontarvi qualcosa dal gruppo dei Verdi che si sono occupati dei giochi quest'anno nell'area del campo dell'oratorio. Non ho la maglietta verde ma c'è lo sfondo che compensa quindi non dovremmo andare male anche perché lo sfondo è grande e è grande come tutti i ragazzi che ci sono stati alla festa dell'oratorio quest'anno con me e con gli altri ragazzi che c'erano. È stata un'iniziativa che ha voluto Don Davide affidare appunto questo compito al gruppo giovani dell'oratorio. Sinceramente ero un po' scettico perché non pensavo di riuscire a tenere tutti i ragazzi per tutte le sere in oratorio fino alla fine dei giochi e invece ho dovuto ricredermi perché probabilmente il Don ha visto più lontano di quello che potevo vedere io e i ragazzi sono stati entusiasti di aiutare i gonfiabili, di aiutare il calcetto umano, di aiutare l'area trattori. È stata un'esperienza per me molto molto positiva perché mi sono ritrovato ad avere tantissimi giovani che si mettevano a disposizione degli altri, soprattutto dei più piccoli, di persone con più difficoltà di loro, senza creare nessun problema, sempre disponibili alla collaborazione. Venivano addirittura al pomeriggio per preparare i giochi. È stata un'esperienza veramente positiva, mi ha lasciato veramente tanto. Io presto la faccia a tutti loro perché erano veramente tanti, non ci saremmo neanche stati qua perché eravamo più di 30 ragazzi e spero di ritrovarli in oratorio prima della prossima festa e alla prossima festa per organizzare qualcosa assieme, magari di un po' più complicato e così faremo vedere che possiamo superarci anche su quello che abbiamo fatto quest'anno. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, io sono Don Davide e sono responsabile di questo oratorio. Dopo i miei amici che precedentemente hanno relazionato in merito alla festa dell'oratorio circa la loro responsabilità, ora tocca a me provare a tirare le file del discorso, cioè dare una lettura di quello che abbiamo vissuto. E lo farò senza pretese di dare chissà quale lettura di carattere culturali o sociologiche, non facciamo troppo i seri, però non vorrei neanche essere superficiale. Cominciamo col dire che nella commissione oratorio c'eravamo posti degli obiettivi. Quando noi vogliamo fare i grandi ci diciamo che gli obiettivi devono essere concreti, personalizzati e misurabili. Sul lasciere questi parametri posso dire che buona parte delle cose che c'eravamo proposte sono state raggiunte. Per esempio c'eravamo detti di coinvolgere maggiormente nella responsabilità la fascia giovanile. Nella responsabilità, non solo nella presenza, perché è la responsabilità che fa la differenza, crea appartenenza. In tal senso un buon gruppo di giovani si è reso disponibile, ha partecipato, ha collaborato, ha progettato, ha programmato assieme e di questo noi ne siamo contenti, ci ha fatto veramente felici e li ringraziamo e penso che possa essere questo il gancio per continuare anche in altre opportunità. C'eravamo anche proposti l'obiettivo di creare un evento, un forte evento aggregante di condivisione e in questo senso era da vedere, era da vedere, si poteva gustare la freschezza del momento, la frizzantezza del momento, i volti erano bellissimi. Un altro obiettivo che c'eravamo proposti era di introdurre qualche novità e ancora una volta in tal senso Fotobox ci ha permesso di immortalare molta luminosità degli occhi e dei volti della gente che ha partecipato alla festa. Anzi, in tal senso vi invito a passare il moratorio perché ora Fotobox verrà pubblicato. Venite e potrete avere un ricordo di questa festa. Un altro aspetto di novità è stato nella gestione del servizio della ristorazione, con pro e contro, con alcuni riscontri positivi, con alcuni limiti, però mi sembra che anche in questo obiettivo qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Obiettivo invece non raggiunto, ahimè, la raccolta di fondi per sostenere il rifacimento del tetto. Se vi ricordate avevamo creato anche il logo, tutti sotto un tetto, per responsabilizzarci, per sensibilizzarci per questo appuntamento significativo dal punto di vista economico. E in tal senso ancora dobbiamo dire che è obiettivo non raggiunto perché l'ultima sera il tempo è stato veramente inclemente, la tempesta ci ha tagliato le gambe e quindi abbiamo raccolto meno di quello che pensavamo. Pazienza. Noi sappiamo che la provvidenza, la generosità dei lenesi e anche il nostro impegno in passato ci hanno sempre permesso di far fronte a esigenze anche di carattere economico. Lo faremo lo stesso. Faremo altri passi in avanti con tutta la speranza di avere il supporto necessario. Che dire quindi? Innanzitutto la festa è un evento, cioè è uno sport, noi non possiamo vivere di sport, ci mancherebbe altro, però questo evento va detto che è stato preparato da un cammino abbastanza lungo e questo cammino è fatto di tappe, hanno partecipato molte persone, abbiamo visto la collaborazione, la creatività, la fantasia, la disponibilità della gente. Direi che sono stati grandi piccoli momenti, oppure piccoli grandi momenti, qui in base a come collochi l'aggettivo grande uno può interpretarlo a seconda della propria lettura della realtà, per me significativi. Poi è chiaro che una festa non è esaustiva di un intero anno pastorale, non cambia il mondo, né tantomeno la maggior parte della realtà della nostra parrocchia, però penso che una buona impronta, un buon segno l'abbiamo lasciato. Invece sul senso di appartenenza stiamo ancora un po' arrancando, ci stiamo lavorando, penso che sia un obiettivo da raggiungere, dobbiamo lavorarci perché quello dà un sapore differente e eventi come questi però sicuramente creano un'appartenenza, anzi noi ci auguriamo che possano essere l'occasione per altri appuntamenti da vivere insieme. Alla fine cosa possiamo dire? Noi ce l'abbiamo messa tutta, per le cose per le quali non ci siamo riusciti o abbiamo sbagliato, chiediamo perdono, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, anzi vi invitiamo a farvi prossimi sempre alle nostre attività, a seguirci sul nostro canale Eurotube, sul nostro sito, a far parte dell'attività che la parrocchia propone e in tal senso teniamoci in contatto. Una preghiera, ciao, grazie a tutti!